Lo sviluppo edilizio, come influisce sullo sviluppo economico del territorio? Lo sviluppo edilizio oggi diciamo che rimarca un po' l'andamento dell'economia che viviamo in Italia quindi sicuramente c'è un rallentamento della costruzione ma soprattutto diciamo che oggi c'è un'economia concreta forse qualche anno fa l'economia era un po' troppo gonfiata perché qualche anno fa uno comperava casa e pensava subito che magari rivendendola all'anno seguente avrebbe guadagnato il 10-15% il che non è mai stato una cosa possibile e oggi diciamo che è sicuramente un mercato più reale rispetto a quello di prima in una situazione di espansione di bolla immobiliare. Quindi si abbassano i prezzi al metro quadro? I prezzi al metro quadro non si sono abbassati delle case nuove ma per un semplice motivo che mentre la casa prima è stata, prima dell'entrata in vigore delle nuove normative, quelle sismiche ma anche quella sul risparmio energetico e quella sul comfort edilizio quindi anche sui rumori prima dell'entrata in vigore di queste norme la casa è stata sempre un elemento a basso contenuto di innovazione. Per intenderci fino a cinque anni fa la migliore innovazione che si poteva portare in un edificio era la porta blindata o il parquet. Oggi invece la casa è un'entità molto più complessa perché c'è un notevole risparmio energetico, un comfort acustico notevole, una sicurezza antisismica notevole. Quindi oggi sicuramente c'è un motivo in più per cambiare casa e la differenza che si è creata di prezzo c'è ma c'è tra le case attuali, quelle nuove e quelle di dieci anni fa. Mentre prima le case di dieci anni o cinque anni avevano poche differenze, prima dell'entrata di queste norme c'erano poche differenze e quindi una casa usata di cinque anni costava quasi come una casa normale una casa nuova. Oggi una casa nuova costa molto di più della casa usata quindi l'abbassamento dei prezzi c'è stato ma solo per le case che non sono fatte con le nuove norme sismiche e quant'altro, quella sull'isolamento termico eccetera.